Sono 309 i positivi registrati nelle ultime 24 ore in provincia, dei quali 121 a Gela, 84 a Caltanissetta. Non scende mai sotto la soglia degli 80 il numero dei positivi in città e intanto si contano ancora decessi, tre pazienti, uno di Caltanissetta, uno di Santa Caterina e uno di Niscemi. La situazione sembra essere stabile anche se i contagi non aumentano vorticosamente e tuttavia c'è un aumento sempre costante. Un nuovo ingresso in ospedale, infatti sono 41 i positivi ricoverati in malattie infettive, nessun ricoverato in terapia intensiva, sono quasi 5.000 in tutta la provincia i nuovi positivi in totale. 1.216 i positivi in quarantena domiciliare a Caltanissetta, 10 i ricoverati. 1.525 i positivi in quarantena domiciliare a Gela, 18 i ricoverati, in aumento i dati di tutti i paesi della provincia e si sta anche delineando un incremento notevole dei contagi in tutte le scuole.